Buongiorno ragazzi, buon martedì. Oggi martedì 19 maggio 2020. Allora, ieri abbiamo ripassato la formazione dei verbi al futuro, i verbi regolari al futuro. Oggi ripassiamo una categoria di verbi al futuro, sempre un po'... sono considerati a metà tra irregolari e irregolari. Ok? Allora, vediamo un po' che verbi sono. Sempre nel foglietto che vi ho mandato ieri, ok? Ora, questo è quello che abbiamo visto ieri, i verbi al futuro. Oggi ripassiamo i verbi che finiscono a incare e gare e i verbi che finiscono a inciare e giare. Sempre al futuro, voi vi ricordate che questi verbi sono dei verbi che hanno una coniugazione leggermente differente. Allora, vediamo qual è la particolarità di questi verbi. Allora, care e gare. Quando noi li coniughiamo, al futuro, stiamo parlando al futuro, dobbiamo sempre aggiungere un'h per mantenere la pronuncia dura. Ok? Allora, andiamo a vedere come funziona esattamente. Cercare. Un verbo che termina in care. Allora, noi ci ricordiamo che dobbiamo togliere are per poter coniugare il verbo al futuro. E la desinenza del verbo al presente, al futuro, perdon, parlare, è ero. Ok? Quindi, che voglio fare? Adesso aggiungo ero, qui a la prima persona, per esempio, no? Però, antes della ero, tengo che aggiungo un'h. Perché? Perché questo mi fa un suono duro, no? Un sonido duro. Perché se io non pongo la h, pronuncio cercero. Se dan cuenta che sin h, sin h, seria ce. E, qui, e si pronunciaria ugual in la prima sílaba, no? Cher, chero. E non è così, perché è errore. Necessitiamo un suono, un sonido duro. Quindi, per fare questo, è più o meno come abbiamo in il presente, in alcune persone, no? Per fare questo, che necissio? Necissio aggiungo una h antes della desinenza, delle ultime lettere, che io necissio per congiungare il futuro. Ora, vamos a ver, come conjugorio. Io cercherò, pongo ch, per dare un suono come ka. Un sonido come ka. Tu cercherai, lui e lei cercheranno, noi cercheremo, voi cercherete, loro cercheranno. La conjugazione è ugualita a la de los verbos en ARE. La única particolarità è che questi verbos ENCARE e GARE devono aggiuntare una H. Veiamo gli verbos ENGARE. Igual, funzionano della stessa. VAGARE, per esempio. Ora, se io non elimino le ultime tre lettere. E me resta PAG, la radice del verbo. Io PAG. Ahí, dopo la G, tengo che aggiuntare la H per poter pronunciare un sonido duro. Ok? Quindi, io PAGARO. Igual, se conjugano della stessa forma del futuro semplice de los verbos ENCARE. PAGARO, PAGARAI, PAGARÁ, PAGAREMO, PAGARETE, PAGARAMO. Ora, altri verbi simili, por ejemplo, son DIMENTICARE, GIOCARE, SPIEGARE, DIMENTICARE, diventa io DIMENTICERO, osea, elimino, osea, me voy a olvidar, no? Elimino las últimas tres y después de esta C, antes de poner HERO, pongo una H para poter pronunciar duro. Ahora, vamos a ver esa segunda parte. Los verbos que terminan en CHARE y YARE. Por ejemplo, ANNUNCARE, que sería ANNUNCIAR, e MANJARE, COMER. Ahora, ¿cuál es la particularidad de estos verbos? Estos verbos, cuando nosotros vamos a eliminar la ARE, osea, las últimas tres letras, no solo tenemos que eliminar las últimas tres letras ARE, sino que, solo en este caso, con el futuro, tenemos que eliminar la I también, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo no puedo pronunciar ANNUNCIAR, ¿no? Sino ANNUNCARE, entonces, aquí, en cambio, que eliminar la ARE, tengo que eliminar también la I, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo. ANNUNCARE, yo elimino las últimas cuatro, ARE, las últimas tres, ARE, más la I, entonces me queda ANNUNC, ¿no? termina con SE, y aquí le voy a juntar la conjugación del futuro semplice, del futuro normal, ¿ok? MANGIARE es lo mismo, MANGIARE, MANGERÓ, osea, yo elimino ARE, elimino también la I, que me queda I, y conjugó de la forma normal del futuro semplice. Ok, altri verbi che possiamo utilizzare simili con CIARE e GIARE possono essere MINNACCIARE, osea, AMENASAR, ALLOGIARE, ALLOCAR, o PARCHEGIARE, PARCHEAR. Estos son algunos verbos del ejemplo. Ok, quindi chicos, acordémonos bien. Tutti i verbi che finiscono INCARE e GIARE devono aggiungere un H prima di aggiungere la desinenza corretta del futuro, mentre tutti i verbi che finiscono INCARE e GIARE devono perdere la I prima di coniugare della forma corretta del futuro. Ora, questa prima parte, ustedes la, ya la tienen desde ayer, che io la invié. Hoi le voy a enviar questa seconda hojita, per che voi poter ripasare le due parti dei verbi. Non vayan a fare nada, nada más, nada di ejercicio, nada, nada, nada. Solo terminano hasta qui il repasso. Ok, questo è tutto. e spero che puedan ripassarci. Ci vediamo domani con la lezione in Zoom e lì faremo di nuovo un ripasso e i vari esercizi, ok? Ciao ragazzi, ci vediamo domani.